saluta i follower guarda che roba adesso noi ci accingiamo ad andare là sopra là adesso scarto pronto andiamo là ciao siamo pronti per andare va su ciao 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 siamo tornati dalla nostra escursione mamma mia è stato faticosissimo mamma mia scarpe consumate io con quella ginnastica e niente andiamo perché siamo stanchissimi è stata dura settimana prossima avrò un drone nuovo